buonasera a tutti benvenuti ad una nuova night session oggi sabato 18 dicembre mancano sette giorni a natale e sta arrivando un'onda perfetta qualcuno di voi avrà notato che ieri sera ridevo quando parlavo del numero 13 se non ve ne siete accorti il suggerimento di dare un'occhiata perché sorridevo perché finalmente la centratura prende la sua consistenza ovvero dato che da questo minimo a cui ormai siamo arrivati oltre le 11 barre abbiamo la conoscenza perfetta che qui è partito il primo ciclo settimanale e ha fatto così e che da qui è partito un secondo ciclo settimanale che è arrivato a cinque giorni è un 9 più 5 oltre a questo che cosa sappiamo di interessante sappiamo una cosa molto interessante dato che è univoco che si sia partiti da qua per far partire e iniziare il secondo ciclo settimanale non ci possono essere più accordi niente c'è solo una lettura di un tipo io un settimanale che si è già vincolato a ribasso a partire dal quarto ciclo giornaliero è partito da dove è partito dal 13 12 eccoci qua 13 12 ha fatto 1 2 3 4 5 e mi ha violato qua per cui dato che ha violato qua come mai non ho detto cose particolari anche al gruppo di persone che mi dedica più tempo nel premium per il fatto che non aveva senso provare ancora un long che può sprofondare in ogni secondo nessuno a quanto tempo siamo arrivati qua su questo minimo a magia 24 barre abbiamo provato a superare la media mobile a 50 periodi con questa candela ci siamo rimasti un po sopra siamo andati sotto ci siamo ritrovati sopra siamo ritornati sotto ci siamo riprovati ritrovati un pochino sopra da qui è possibile che sia partito il sesto t-3 sapendo anche che abbiamo un t-3 rialzista un ciclo giornaliero rialzista primo secondo terzo quarto quinto ciclo giornaliero da qui è molto probabile che sia partito il sesto t-3 non abbiamo ancora il tempo non abbiamo ancora lo su inviolato però è probabile estremamente probabile per cui fossi in voi farei una riflessione dato che da qui può essere partito un altro t-3 in ogni caso andrei a mettere un ordine perdente short qui a 46.362 nel caso si andasse sotto questo swing di minimo avendo avuto almeno il tempo per far partire il sesto t-3 se poi si arrivasse sopra questo livello a 47.243 anche a pari meglio 244 si facesse hop questo movimento qua disegniamolo così e poi si iniziasse piano piano a scendere in caso violassi questo minimo rimarrei short per almeno 24 barre la durata minima del sesto t-3 e poi anche in caso di rimbalzo eventuale facesse così io mi rimetterei short perché? perché noi ci siamo vincolati perlomeno devo ritornare sotto questo minimo a 45.788 per cui prendiamoci il nostro impegno target target minimo a 47.000 abbiamo detto 47.000 45.788 45.788 lo mettiamo un po' più grande e mettiamo anche un tempo entro minimo un giorno al massimo dato che siamo arrivati all'inizio del sesto t-3 al massimo 6 così abbiamo dato un target inequivocabile e un'idea di quello che può essere il movimento che verrà fatto qui dura magari un pochino di più l'eventuale salita la prosecuzione del sesto t-3 però questo è il programma principale perché qui ci siamo inviati ai basso quindi è anche facile iniziare a mettere magari uno stop loss sopra determinati swing di massimo con una certa percentuale e quando cesseremo di avere i massimi e teniamo presente che abbiamo avuto massimo massimo inferiore massimo inferiore massimo inferiore massimo inferiore massimo inferiore possibile massimo che rimane inferiore a questo che è quello principale tutte le volte che ho fatto un massimo che però non è arrivato sopra un altro siamo scesi quindi il programma è lo stesso ragionare di cui va a far partire il sesto t-3 controllare se parte sia in termini di tempo che se fosse possibile con questo swing e poi se vedo che inizia a non aggiornare i massimi più metto un mio short metto dove devo mettere sempre va messo lo stop loss sempre come sempre quando inizia ad andare in gain va messo il take profit a certi livelli in modo da non perdere il gain che abbiamo portato a casa il guadagno che abbiamo portato a casa ma questo è quanto l'inverso torna 1,2,3 è quarto t-3 inverso e se il quarto t-3 inverso comunque facesse quello che vuole rimanesse rialzista cioè non salisse sopra questo massimo a 47.483 ma anche se lo facesse fa lo stesso comunque e poi se partisse un nuovo t-1 questo è il primo t-1 o può essere questo il primo t-1 se partisse il secondo t-1 lo badisco spingerebbe di nuovo verso il basso e ci porterebbe prima sotto questo minimo e poi sotto questo minimo se lo guardate sul grafico peraltro io vi faccio notare un'altra cosa che è estremamente interessante a parte che la media mobile in rosso la più veloce non sta deviando dalla discesa sta provando ad andare in death cross e questo vi direbbe che da questo massimo non solo è partito un semestrale ma qualcosa di più e tra poco ne avremo una riprova perché? perché se da qui fosse partito effettivamente un nuovo t-2 scusate 1 2 3 4 ok se da qui fosse partito un nuovo mensile inverso ci sono ci sono possibilità che ovvero se il primo avesse fatto così e il secondo stesse facendo così noi potremmo tornare di nuovo vicino ai minimi magari non andarci sotto però anche in questo caso noi abbiamo un possibile raccordo qua la risposta è no perché? perché se andremo sopra un determinato livello di giorni siamo già a 14 allora tra un t più 4 e un t più 4 è vero può esserci un t più 1 di raccordo finta rialzo e poi ritornano i pressi di questo minimo ma andati oltre eventualmente i 21 giorni io escluderò quest'ipotesi di raccordo tra t più 4 e t più 4 in questo momento posso escludere a priori una cosa primo ciclo trimestrale t più 3 secondo ciclo trimestrale terzo ciclo trimestrale è un raccordo per far partire un nuovo trimestrale no perché dovrei avere tra un trimestrale e l'altro un t settimanale solo di raccordo io sono a 14 giorni ho già superato la durata massima di 11 di t di durata del ciclo settimanale quindi escludo il raccordo escludendo il raccordo escludo anche la possibilità che parta soltanto un trimestrale dopo la chiusura del raccordo e quindi o parte un semestrale o siamo a 151 giorni su minimo un 200 di annuale se qui rimarremo confinati sopra questa candela per almeno un t più 2 quindi almeno 24 giorni e noi siamo a 14 mancherebbero 10 giorni se diciamo a non finire qui sotto con un mensile confinato fino a 24 giorni sopra questo minimo qua noi abbiamo un mensile laterale anche soltanto laterale rialzista e appena si va in violazione io so che è partito un ciclo semestrale un t più 4 che è diventato ribassista e quindi che continuano a spenderci verso il basso queste però sono ipotesi ok vado soggenno immaginando ciò che ci potrebbe essere a destra e questo non va bene va bene dire che non ci può non potrà partire un nuovo t più 3 soltanto un nuovo t più 3 invece che un t più 4 non va bene portarsi troppo avanti con l'immaginazione ritorniamo al discorso che è il secondo t settimanale univocamente partito da questo minimo potrà fare i tentativi di rimbalzo che vorrà ma poi ci riporterà sotto questo minimo stesso almeno se non sotto il minimo assoluto fatto a 45.539 vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata ricordatevi sempre sempre ribadisco sempre che appena andremo alla oltre la 43 barra sotto questo massimo e temo che a Natale non saremo a 100.000 ma appena supereremo la 43 barra qua sotto e noi siamo a 39 noi avremo qualcosa di più di un mensile che fa partire un semestrale da qua inverso inizieremo ad avere un annuale che parte da qua inverso e chi è che ve l'ha detto chi è l'unico probabilmente che vi ha detto che da questo massimo poteva partire un annuale inverso o qualcosa di più rifletteteci e decidete se iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mettere un like al video per dare una pacca sulla spalla a qualcuno che utilizza il suo tempo anche il sabato sera per fare delle analisi così complesse che vi dicono che potete andare a fare un guadagno relativamente semplice non sicuro ma semplice con uno stop loss non esageratamente alto e decidete se volete darvi una pacca sulla spalla buona serata a tutti arrivederci grazie a tutti